Oggi un profumatissimo pan d'arancio. Il bello di questa torta è che si fa tutta nel frullatore. Laviamo delle arance biologiche e le asciughiamo bene. Spuntiamo la parte con il picciolo e le tagliamo a fette e poi a tocchetti. Naturalmente eliminate i semi se ci sono. Mettiamo la farina, lo zucchero, il latte e l'olio di semi di girasole. Le arance, le uova e lievito e frulliamo. Uniamo un po' di gocce di cioccolata e mescoliamo. Spoderiamo una teglia con carta forno. E travasiamo l'impasto. Inforniamo a 180 gradi statico nel ripiano più basso per 40 minuti, poi per altri 40 minuti a 150 gradi. Abbassiamo a 150 gradi e via ancora a 40 minuti. Ed ecco il nostro pan d'arancio. Lo lasciamo raffreddare. Spennelliamo con un po' di marmellata di arance. E serviamo a fette. Una torta da credenza super profumata. Sentirete già in forno gli aromi che emana. Questo è obiettello. Con un po' di marmellata di mestra. Super foe la carta.